Buongiorno a tutti, sono Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Sono qui per sostenere una splendida iniziativa del FAI, quella di portare questa bellissima chiesetta tra i luoghi del cuore del FAI. Questa chiesetta è nel contesto dell'ospedale Borsalino e è legata a due personaggi, Ignazio Gardella prima di tutto, che l'ha progettata, e Giuseppe Borsalino che è il benefattore di tutto questo complesso. Due personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella città di Alessandria, due personaggi che sono ricordati e ammirati ancora oggi, due personaggi che meritano che una loro opera sia tra i luoghi del cuore del FAI. Per questo invito tutti a sostenere questa iniziativa, a firmare per questa iniziativa e a dare una mano al FAI che con tanto impegno e con tanta competenza cerca di portare questa chiesetta agli splendori di un tempo. Grazie.